dobbiamo andare di qua, Stevie Ray, vecchie momen, va! facciamo un video, l'uomo sacco, perché lei è l'uomo sacco, perché mi piace un sacco, è un sacco bello, lui è sempre lui, e loro sono sempre loro, ma perché fate sempre le mosse, non fate le mosse, ragazzi, perché fanno le mosse, ragazzi, voglio bene anche se non fanno le mosse, non fate le mosse, perché fai le mosse? cosa continuate a fare le mosse, ragazzi? ma come no? guarda, non fai le mosse, guarda, stai seria Valentina, ti prego, dritta, così, brava, ecco, immaginati di essere in ufficio, stai lavorando alla tortiera, fammi... no, io ho pancia in fuori e patti in dentro pancia in fuori pancia in fuori ma ciao Grazie a tutti.